Pat, che cosa ci fai vicino a un negozio di videogiochi, eh? Ne stai comprando uno? Ah, sì, l'ho sentito. È quel gioco in cui fai la parte di un cattivone che uccide altri cattivoni. Questo finirà insieme alle riviste di costumi da bagno e alla tua pistola all'aria compressa nel cassetto delle mutande di Homer. Il Simpsons. Oh, che strano. L'unico gioco di Simpsons che vi viene in mente è quello in cui facciamo tutti finta che papà non sia alcualizzato. Cosa può essere? Fermi tutti. Questo è il manuale di un videogioco a Springfield. Papà è un personaggio e anche mamma. E Lisa. Chi vuole giocare nel suo ruolo? Ci sono anch'io, cazzo! Chissà quali sono le mie mosse. Salcare, scuare. Devo provarlo. Anzioni! Eh, Rospo, guarda che è apparso nel mio cassetto magico. Cos'è quel costume da gay? Se hai intenzione di tornare a casa così, scordatelo. Superpoteri, eh? Beh, è mitico. Stavo giusto andando a caccia di pipistrelli leggendo riviste di costumi da bagno in questa caverna. Vuoi venire con me? Ehi, dove ha lasciato la pistola? Fico, rintanato in una caverna proprio come il vero Batman. Cioè, Batman. Spero che la scia non mi serve. Mi sono sempre sentito a mio agio nelle caverne nei fossati. Cicciomel, vieni qui. Ho bisogno della tua obesità. Chiamarti idiota ossessivo sarebbe un'offesa per gli idioti. Quando salgo su uno di questi cosi, scendo. Sono un genio! Ti dirò, a parte i sacrifici umani, questi astechi non erano male, eh? Non avete fatto la donazione che vi avevo chiesto. La nostra omissione è fermare il bullismo. Ma mi piace così tanto picchiare i poliziotti. Non avete fatto la donazione che vi avevo chiesto. Ci sarà bisogno di impegnarsi. Meglio lasciarlo a Bart. Capisco tutte le battute sporche che ho sentito nella mia vita. Oh, perché le piattaforme sexy toccano sempre a Bart? Mentre tutti diverti, io sono bloccato qua giù. Come uno sfigato! Chiamarti idiota ossessivo sarebbe un'offesa per gli idioti. Sì, smetti di piangere, piccolo Bart, ora papà. E vai, non ti lascerà più. Margie mi ha detto di smetterla di attaccare i poliziotti. Chi è che puzza adesso? Niente paura, adorano i ciccioni e i ragazzini in prigione. Margie mi ha detto di smetterla di attaccare i poliziotti. Ma non devi sfruttare la tua mole, Homer. Margie mi ha detto di smetterla di attaccare i poliziotti. Spera che le telecamere della sicurezza non l'abbiano ripreso, papà. La terra, l'uomo buffa fatto boom. Con il mio coraggio, la tua ciccia e mantenendo la posizione siamo a cavallo. Non avete fatto la donazione che vi avevo chiesto. Se l'abito fa il monaco, allora tu devi essere un poveraccio. Credo che sia morto. Ecco un bel esempio di sano odio per l'autorità. Ah, avete offeso la mia delicata sensibilità. Se l'abito fa il monaco, allora tu devi essere un poveraccio. Al prossimo giro ci penserai due volte prima di fare il tuo lavoro. Vi presento il mio mangarino. Se l'abito fa il monaco, allora tu devi essere un poveraccio. Tecnicamente sono dalla nostra parte, ma prendiamoli comunque. Fai rivedere cosa sai fare. Avevo scommesso 20 dollari sul polizio orto. Apriti, sesamo. Salta Shakira, quella cosa dai brividi. Tecnicamente sono dalla nostra parte, ma prendiamoli comunque. Chi è che puzza adesso? La nostra missione è fermare il bullismo. Ma mi piace così tanto picchiare i poliziotti. La nostra missione è fermare il bullismo. Ma mi piace così tanto picchiare i poliziotti. Ormi, giorni, acciaio. Nel museo c'è di tutto. Così si fa. Fantastico, un altro cliché dovrebbe impressionarmi. Vai così, Bart. Ma non mettermi in imbarazzo. Credi veramente di poter sconfiggere i tre bulli della scuola elementare? Spero che tu non mi stia seguendo perché ti sto seguendo io. Cos'è l'intenzione di usare contro di me? I tuoi poteri? Il nostro primo diorama illustra l'uomo primitivo. Cos'è l'intenzione di usare contro di me? Cos'è l'intenzione di usare contro di me? Lo cose stigmatiche alta. Lo cose si si è importante di usare contro di me? Grazie.